Uno degli episodi chiave, perché magari non chiamare il fuorigioco su Tavano poteva portare la squadra sul 2-0 e chiudere definitivamente la partita. Magari questo episodio poteva passare in secondo piano. È stato tutto un accumulo di episodi a noi sfavorevoli che purtroppo ci hanno fatto tornare da Livorno con un solo punto. L'amarezza evidente perché la classifica parla chiaro, quindi i numeri, il calcio purtroppo è fatto, o per fortuna è fatto naturalmente di numeri. Sta di fatto che noi su sei partite abbiamo avuto una marea di episodi sfavorevoli. Ci sarebbero bastati due punti oggi e due punti fatti col Novara su un gol regolare. Eravamo quattro punti, in più eravamo nove punti. Quindi stiamo parlando di tutt'altra classifica. Senza aggiungere poi tutti gli altri nelle altre partite, perché ogni partita è stata condizionata alla fine da un episodio a noi sfavorevole.